Allora Stefano, la mia prima domanda è qual è la tua definizione di gamification? Guarda, gamification la potremmo intendere come l'utilizzo del gioco in ambiti che non sono ludici, che possono spaziare dal marketing alla comunicazione, all'innovazione, alla collaborazione o al business, quindi questa è la prima definizione che ti darei, poi appunto il termine gamification è ora in una fase di hype, ne parlano tutti, è diventato un termine di moda e per cui ci sono definizioni più ortodosse e altre un po' più ibride, però ecco diciamo io la sto vivendo, è un fenomeno che mi sta appassionando, che sto seguendo molto e lo sto seguendo in maniera anche critica, nel senso che non sono un game designer, mi piacciono i giochi ma non sono un esperto di giochi, quello che mi interessa è capire come le meccaniche e le dinamiche del gioco appunto possano avere dei risultati all'interno di quello che faccio all'interno della mia attività professionale, ovvero capire come il gioco possa aiutare un'azienda a coinvolgere meglio da una parte i clienti verso l'esterno e dall'altra i dipendenti verso l'interno. Appunto ti volevo chiedere, hai qualche esempio di utilizzo di dinamiche del gioco all'interno dell'azienda? Ma guarda sì, è molto interessante perché poi quando si parla di gioco all'interno dell'azienda si vanno a toccare dei tabù, degli stereotipi molto interessanti perché sai fin quando applicare il gioco verso l'esterno è molto semplice, tanto è vero che anche le case history più interessanti sono tutte verso l'esterno, da quello che fa Starbucks associata a Foursquare per il fatto di applicare delle dinamiche promozionali al fatto di diventare sindaco, i vari badge, altri progetti come Nike Plus e quant'altro, invece quando cerchi di applicare il gioco all'interno ti scontri appunto con degli ostacoli molto più grandi perché poi tutto quello che ha visto come gioco, come qualcosa che può minare la produttività ovviamente ha dei risvolti negativi, però pensandoci bene appunto, pensa a quanto molto di quello che viene utilizzato verso l'esterno anche con finalità ludiche poi possa essere riportato all'interno dell'azienda per migliorare la produttività. Banalmente una intranet 2.0 che ha uno spazio di collaborazione interno, altro non è se non un Facebook aziendale. Pensa anche quanto il check in, che quando tutti noi lo facciamo all'interno di un bar, di un cinema, è qualcosa di divertente, corrisponde alla fine al timbrare il cartellino all'interno dell'azienda. Allora dove è la differenza? Sta nel capire come appunto le modalità del gioco possono cambiare in meglio il comportamento, quindi un'applicazione non fino a se stessa ma come un vettore di cambiamento su diversi livelli. Questo cambiamento può avvenire a livello di collaborazione, a livello di innovazione, a livello di leadership. Poco tempo fa era uscito uno studio di Gartner che diceva che una previsione di Gartner, poi più o meno attendibili come tutte le previsioni, diceva che addirittura nel 2015 più del 50% delle aziende che si occupano di innovazione si troverà di fronte alla gamificazione, termine orribile tradotto in italiano, dei propri processi aziendali soprattutto votati all'innovazione. Però cercando di andare più nel concreto che cosa significa? Allora lato collaborazione una prima applicazione possibile ce la possiamo avere a livello di intranet appunto. Molte aziende pensano che basti avviare, implementare nell'azienda una intranet e poi tutti i dipendenti magicamente smetteranno di utilizzare le mail e inizieranno a condividere tanti file, ad aggiornare il proprio status per a loro volta aggiornare i loro colleghi, condividere sempre di più elementi professionali, cosa che non accade quasi mai proprio perché manca il reale coinvolgimento. Allora applicare delle dinamiche, delle meccaniche di gioco a un contesto di collaborazione interna come la intranet può avere dei risultati positivi perché a quel punto l'azienda può incentivare delle dinamiche anche di competizione, di sfida regolate dal gioco, per cui per esempio si può capire chi è il dipendente migliore ad utilizzare quello spazio, quello che condivide più contenuti, quello che partecipa di più alle discussioni, che risolve di più i problemi che vengono sollecitati dal resto degli utenti, dei dipendenti che utilizzano questo spazio, oppure addirittura permettere di sbloccare delle sezioni quasi segrete della intranet soltanto quando si è raggiunto un tot di punti. Questo lato collaborazione, l'altro versante interessante è quello dell'innovazione, innovazione intesa come innovazione partecipativa, collaborativa in cui anche i dipendenti di livello medio o addirittura a basso, hanno una voce e possono esprimere la propria idea e la propria opinione all'interno di varie piattaforme che in termini tecnici vengono definite di idea management, dove a sfidarsi, ad entrare in competizione, a giocare sono le idee, quindi ancora una volta il valore di queste idee può portare a delle sfide tra chi queste idee le propone, può portare a delle classifiche, può portare ad ottenere dei punti. Qui poi c'è anche un altro ragionamento da fare, che è legato anche a un possibile cattivo utilizzo del termine di gamification, quello che vede un po', io sto seguendo con interesse la disputa tra i game designer e invece quelli che vedono la gamification come un approccio molto marketare, per cui ci sono quelli che ti dicono alla fine tu puoi avere un sistema di badge e di punti su qualsiasi cosa, possiamo gamificare tutto, qualsiasi tipo di prodotto, qualsiasi tipo di business, non è così. Dall'altra parte ci sono i game designer che considerano il gioco come qualcosa giustamente anche di più importante, come qualcosa che deve immaggerti in un'esperienza vera e propria rispetto alla semplice somministrazione di punti, per cui sia in un contesto di collaborazione che di innovazione all'interno dell'azienda, è importante capire quali sono poi le reali motivazioni, i reali bisogni dei dipendenti in quel caso che si vogliono sollecitare attraverso il gioco e questo poi determina un altro ragionamento ancora in riferimento ai premi, allora è molto difficile coinvolgere effettivamente i dipendenti dicendo in un'ottica comportamentistica, dicendo ok se tu partecipi alle discussioni della internet ottieni un po' di punti e con questi punti che cosa ottieni un iPad o cosa ottieni un gadget di valore più o meno ampio, perché appunto questo riconoscimento non entra nel meccanismo del gioco che invece si dovrebbe sviluppare, se invece il dipendente viene fatto capire come la sua partecipazione e la sua anche attitudine alla competizione, possa portare a migliorare il modo in cui lavora, il modo in cui l'azienda ottiene dei risultati e quindi capire come quei vantaggi possono essere legati tanto al singolo come individuo quanto appunto all'azienda come gruppo. Quindi che cosa ne pensi ad esempio di un modello freemium che offre una serie di servizi gratuiti e invece un'altra, diciamo una serie di servizi più avanzati della stessa funzione per esempio, a pagamento? Ma guarda io credo che trattandosi di uno scenario ancora in fieri, anche i modelli di business stiano evolvendono seguendo anche l'evoluzione di questo fenomeno. I modelli freemium ci sono molti casi, sono sicuramente un modello interessante che ha poi dei ritorni interessanti sul web indipendentemente dalla gamification, sono molti servizi e applicazioni che giocano su questo concetto, su questa evoluzione anche delle forme di pagamento. In questo caso il gioco può ben supportare questi modelli di business perché ovviamente tu hai degli step, il gioco ti impone degli step progressivi, l'avanzamento dei livelli come accade appunto nei giochi più classici, per cui anche lì tu puoi provare un servizio, un prodotto con delle feature limitate e in base a delle azioni che poi vengono progettate e tu puoi arrivare fino a ottenere il massimo risultato, ovvero quindi in quel caso il servizio o il prodotto con tutte le feature disponibili. Per cui in questo sono, vedo delle buone opportunità sicuramente. Pensi che la gamification possa funzionare ancora così come è stata pensata in questi mesi e anni oppure dovrà trovare veramente un'evoluzione per continuare a funzionare ancora? Ma guarda, sicuramente sono sicuro che ci sarà un'evoluzione in questo perché appunto applicazioni ormai famose come Foursquare hanno decretato un po' anche la popolarità di punti e badge, però queste sono forme di riconoscimento che non hanno vita lunghissima, i badge piacciono molto ai Boy Scout ma non credo che piaceranno anche ad altri consumatori o ai dipendenti all'interno dell'azienda, quindi anche avere il primo posto in classifica se è fino a se stesso sicuramente non ha un grande impatto in termini di modifiche del cambiamento, per cui io vedo sicuramente un'applicazione evoluta del gioco come uno degli strumenti imprescindibili in una cassetta degli attrezzi più ampia, che alla fine dove appunto il gioco è un'implementazione possibile, ma la vedrei più come un mezzo e non come un fine. Quindi diciamo nelle forme future di engagement anche verso l'esterno, su social media, sicuramente il gioco avrà una componente sempre più importante, però lo vedo sempre di più amalgamato in una strategia più complessa, anche perché ti faccio un esempio, tornando poi anche al discorso di Foursquare, dove appunto sembra adesso un mantra per tutta una serie di consulenti che consigliano appunto le aziende, soprattutto quelle che poi operano nel retail, nell'utilizzare queste forme di incentivazione, di coinvolgimento, di fidelizzazione, quindi diventi sindaco, tieni dei punti, ti do il prodotto, la bibita gratuita, ti do la tessera omaggio e quant'altro. Però poi se questo tipo di tattica non viene ancorata ad una strategia più allargata, che per esempio non coinvolge soltanto il reparto marketing, che poi lancia quest'idea, ma coinvolge varie sezioni, vari reparti dell'azienda, il tutto rimane molto sterile. Ti faccio un esempio, se banalmente tu non riesci a fare una formazione adeguata ai tuoi dipendenti, per esempio quelli che sono nel punto vendita, quando poi ti arriva il cliente, ti fa vedere il suo smartphone e ti dice io sono sindaco di questo negozio, dammi il prodotto gratis, c'è il rischio che il dipendente poi va a chiamare qualcuno, perché non sa come gestire questo tipo di rapporto. Per cui sicuramente il gioco può ottimizzare l'engagement, la loyalty, che sono due concetti fondamentali, ancora una volta sia verso l'esterno che verso l'interno, però non può farlo da solo, deve essere innescato in un disegno strategico più articolato. Chiaramente dal punto di vista interno ci deve essere una preparazione, questo è in dubbio, ma per quanto riguarda i clienti, come pensi che sia possibile coinvolgerli, quindi parola chiave è proprio la loyalty e l'engagement, attraverso le dinamiche del gioco, senza però dare la sensazione che si tratti proprio di una marchettata, diciamo. Guarda, il mio pensiero è che puoi farlo laddove ancora una volta fai capire al cliente qual è la promessa che gli stai facendo, io ti faccio giocare, ma che cosa ho da offrirti? Penso a un caso come Starbucks, citatissimo, che lo penso però applicato non tanto alle campagne su Foursquare, ma ancora una volta a un sistema di idea management come MyStarbucks Idea, dove appunto i clienti possono giocare, possono sfidarsi, possono assegnare un punteggio alle proprie idee, ma non soltanto per vincere, anzi non per vincere un frappuccino o un dolcetto, ma per cambiare a volte in maniera superficiale, altre in maniera radicale, la loro esperienza di consumatori nei confronti di quel brand, nei confronti di quell'azienda. Quindi questa è un'evoluzione dove c'è una promessa molto più alta, quindi sicuramente tutte le logiche applicate al gioco hanno una componente anche narcisistica, il fatto di mettersi in competizione, di primeggiare, però poi è importante far progettare una promessa molto più elevata, il fatto di coinvogliare il gioco in un cambiamento potenzialmente molto più impattante nei confronti dell'esperienza del consumatore. Non voglio soltanto vincere ancora una volta il prodotto o la carta fedeltà, ma voglio avere un prodotto migliore, voglio avere un servizio migliore, voglio avere un punto vendita migliore, voglio avere un'azienda migliore. Questa è una grande differenza che però va costruita nel tempo e va al di là di una campagna di gamification organizzata in un paio di mesi, appiccicando quindi un po' di badge, un po' di punti a qualcosa che già esiste. Stefano, io ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo e per essere stato qui con noi oggi. Grazie, grazie a te dell'invito, a presto. A presto.